...della città alta. Di questo non hai che da incolpare te stesso. Non partire con le prediche. Ascolta, Aaron può muoversi in libertà lì. Non correrà alcun rischio, a meno che non attiri troppe attenzioni. Se dovesse accadergli qualcosa, dovrai andartene. Ciasca non ti proteggerà oltre qui. Akan. Chi sei? Un lupo travestito da pecora, ricordi? Sei tu! Non ti avevo riconosciuta senza costume. È un piacere rivederti, amica mia. Anche per me. E Chiara? Ha ancora un padre, grazie a te. Se ben ricordo, siamo serviti entrambi per uscire da quella cella. Allora, come stai? Faccio del mio meglio per non sprecare questa seconda opportunità, ma... ho le mani illegate. Qual è il problema? Si dà il caso che Aaron, un uomo che vive qui, lavori alla caserma delle guardie nella città alta. Gli ho chiesto di curiosare in giro per me, ma non ha fatto ritorno. Temi che gli sia accaduto qualcosa? Lo teme sua sorella. È sempre in pensiero per lui, ma stavolta non ha tutti i torti. Se ho messo Aaron in pericolo e la donna che gestisce questa topaia lo scopre, io e Chiara saremo nei guai fino al collo. Potrei andare io a cercare Aaron. Se si è messo nei guai potrei riuscire a tirarlo fuori. In effetti è una cosa che ti riesce bene. Hai ancora quel travestimento da sacerdote? Sì, naturalmente. Bene. Aaron è il guardiano della caserma della città alta. Con quel travestimento riuscirai a entrare. Sì, naturalmente. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non ho abbastanza spazio. Non ho abbastanza spazio. Non ho abbastanza spazio. Ah, sacerdote. Alcuni audaci guerrieri si sono distinti combattendo in nome di Kukulkan. Meritano una benedizione, non trovi? Eh, certamente, sì. Magnifico. Ne saranno onorati. Di qua. Non ho abbastanza spazio. 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 Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Mora che mi ha liberato. È... È un piacere. Mi vergogno a dirlo ma ora che ci penso non ti ho mai chiesto come ti chiami. Mi chiamo Lara. Bene Lara. Come puoi vedere Aron è tornato tutto intero. In pratica ti ho mandata a cercarlo per niente. Mi dispiace... Forse non è stato inutile. Questo messaggio significa qualcosa per voi. Ma... ma come hai... Quando sono andata da Aron l'ho vista eliminare la guardia. Il sacerdote? Eri tu? Sì, hai fatto bene a scappare, Aaron Se le guardie ti avessero catturato il messaggio sarebbe andato perduto Non riconosco i simboli che hanno utilizzato È una lingua segreta che Amaru usa per comunicare con la sua gente Si vocifera che indichi Riteniamo che indichi dove si trova la sede dell'Alto Consiglio Solo i membri del culto sanno come leggerlo Riesci a decifrarlo? Mia sorella, Azi Posso rispondere io? Azi era mia moglie Un tempo era anche seguace di Amaru Mi ha insegnato a leggere la loro lingua segreta Le hai fatto cambiare idea sul culto? Nessuno poteva far cambiare idea ad Azi Nessuno Deve essere stata una donna molto forte L'amavo tantissimo Allora, il messaggio dice dove dobbiamo andare? Dobbiamo? E va bene Conosci il villaggio abbandonato ai confini della città? Posso trovarlo Bene, ci vediamo lì Aron, se entro un'ora non torniamo Stando a quanto riferisce a Khan Si tratta di una lingua segreta utilizzata da Amaru e dal suo culto Per trasmettere informazioni importanti Ma portati dietro più gente possibile Pensi di riuscirci? Si Si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.